Destra lasciando la scena al nostro polio del paro 11 Che arriva tutto da sinistra e sta per toccare le corde del nostro orgoglio patriottico Perché ci dimostrerà cosa può fare la nostra ingegneria Quando incontra la passione dei nostri piloti MB339Pan, uno dei pochi gesti al mondo in grado di eseguire il Lopsovac La salita con le rotazioni e gli abitamenti Prima di lasciarsi cadere ancora una volta all'interno dei suoi stessi fumi E poi giù in vita e controllata Lui è alla sua quinta stagione da solista Alla coda numero 11 Questo fa di voi il nostro dodicesimo uomo E allora come negli stati più caldi Se quello che avete appena visto vi ha generato un'emozione Facciamo arrivare fino a su il nostro applauso Al tenente colonnello Massimiliano Salvatore